Ciao ragazzi, benvenuti alla quinta parte di Harry Potter e la Camera dei Segreti Qui con me, dall'inizio della quarta parte, c'è Harry Potter Junior, nonché mio fratello Andrea il Porcello Marielto Allora, la parte scorsa, devo dire, è stata decisamente molto lunga La prima parte lunga di questo let's play di Harry Potter, perché c'è stato un susseguirsi di missioni che non potevo far, non potevo lasciare in sospeso per continuare in una parte futura Quindi l'ho dovuta fare tutto in una botta, eccetera, eccetera, eccetera La seconda parte abbiamo trovato Ginny, poverina, che era col suo paffutolo, che il paffutolo è un animale misterioso mai considerato conosciuto prima Abbiamo fatto il lungo percorso barra Formula 1 con la polvere volante Abbiamo... abbiamo cavalcato le ferrovie della stazione di King Cross per arrivare a Hogwarts Abbiamo combattuto col platano picchiatore Che poi di picchiatore non aveva un pene, perché mi ha fatto pochi graffiotti Oddio, c'è Pix Harry Potter non deve rimanere a Hogwarts Perché? Perché me l'avete messo solo in questa scena, Pix? Io lo volevo vedere anche più avanti nel gioco Perché? Perché? Perché dovete farmi soffrire? Andrea, perché mi devono fare soffrire? Per parlare, Andrea, mettiti più vicino, che non si sente piano Qua, scecco, secondo me è perché ho messo questo coso qua Tu sei brutto Wow, Harry Potter, sei davvero tu? Io sono Colin Cannon Anch'io sono di Grifondoro Posso scattarti una foto? Certo Mi hanno raccontato di come sei sopravvissuto quando tu sai chi ha cercato di ucciderti E hai davvero una cicatrice a forma di saetta sulla fronte? Qui è fantastico, non trovi? Vero Qui facciamo un incontro con un... Con il primo, si può dire, con quello che è l'ingresso al mondo dei bimbi minchia Però io non... Cioè, Colin Cannon non è considerabile tale Però in questo gioco l'hanno troppo saltato Anche nel libro, devo dire Nel libro è proprio una tortura coglionale Atterrare con una macchina volante direttamente sul platano picchiatore Se ne parlerà per anni Fantastico! Che arrivo! Finalmente troviamo qualche viso nuovo Hogwarts Meno male Dobbiamo tornare nella sala di ritrovo prima che Python ci scopra Ok, Mr. Panza Stavo dicendo Stavo dicendo Sì, Colin Colin Cannon Andrea, non fare il gay Ti si vede da là in fondo Se mi rovini la parte e mi fai prendere in giro dai miei fan Che hanno i poster appesi in camera loro Della mia faccia brutta Io ti picchio, ti strappo le budelle e me le mangio No! Oh, non ho finito Dunque ragazzi Non badate a mio fratello perché se ne va, se ne viene Se ne viene Volevo dire Se... va e viene Comunque, ritorniamo sul gioco Non facciamoci distrarre da elementi che potrebbero rischiare di danneggiare la nostra salute E... entriamo in una biblioteca segreta Per me è stato un colpo da bambino trovare la biblioteca segreta Perché è tipo... Sai quando non hai un cavolo da fare e ti diverti a girovagare per Hogwarts? Io premevo i tasti a caso Perché ero molto... un giocatore molto forte in Tekken Quindi premevo i tasti a caso Utilizzavo queste teine anche in Harry Potter E ho trovato che... anche in Harry Potter Questa cosa qua E mi è stata utile per scoprire che Oltre... Alle porte di pietra ci sono anche le porte di libreria Questo è stato... un flashbang Posso mettermi più vicino così l'audio si sente forte Perché... Non utilizzo il microfono della videocamera perché si sente troppo basso Utilizzo quello del computer Quello che ho fatto vedere nel libro... nel libro Perché dico nel libro? Perché... Oh Ho fatto vedere nel video I libri volanti A me hanno... hanno... triturato sempre i coglioni Da... da sempre queste cose Dai! Oh mio Cristo ma... non hai voglia di morire? Avira di merda! Sei proprio una cessa! Perché? Perché Avira mi deve rovinare il video? Perché non lo disattivo io prima di iniziale? Sapete che ogni volta che devo fare una parte Veramente mi perdo tantissimo Perché devo aprire tre programmi E per mio computer Tre programmi sono tanti E... laggo Però non si vede perché Sono un gran figo Allora... Faccio in modo che il lag non si vede Scherzo Comunque Quindi... Chiudere anche l'antivirus mi sembra esagerato Quindi sopportate... Sopportate questo piccolo errore Questo piccolo errore Allora per... Come penitenza mi uccido Ma perché? Ho detto di uccidere Noi ti amiamo Noi ti ingroppiamo Ok Che bello Sentite... Anche qua Anche qua Anche qua è bello Vedete? Tutto... Tutto il verde Il parco di oporsi I luoghi segreti Nella mente... Negli occhi e nella mente di un bambino Queste cose non possono fare Più che bene Cioè mi sono sempre divertito a rifarli A rifarli A rifarli Anche se avevo già preso la figurina Arrivavo fino a qua Anche se non c'era niente Angry Bot Si chiamava così no? Sì Poi... E quindi mi piaceva tantissimo esplorare Più di una volta questi luoghi Perché... Sono fantastici Poi... Il mio... Il mio minigioco di questo gioco Sono anza In assoluto È quello con la... Con la bandiera Quando sei sui tetti di opors Quello è bellissimo Cioè Io... Se fossi... Se fosse per me Ci starei... Tre ore Bravo porco Bravo porco Si mangia davanti a un video? Ma si mangia? Cioè io non lo so Sti bambini d'oggi Non sono più come noi Non sono più come noi Sì bravo Ti credi forte? Oh bravo Sta mangiando un biscotto Guarda Supereremo le visualizzazioni Di Gamma Style Visto che... Una volta che la gente Ha visto che ti mangi un biscotto Che amarezza Comunque Eccoci ritornati All'ufficio Guarda L'ufficio di Allok Sono sorpreso Che riesca a far passare Il suo testone Attraverso quella porta Ah 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 Che ridere Questo non lo facciamo Perché Vi svelo subito Che Per portarlo a termine Quell'area segreta Abbiamo bisogno Di un incantesimo Che per adesso Non abbiamo visto Che abbiamo appena 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 Iniziato Non è che Siamo superman Siamo super pork Noi Siamo super pork Ok Oh my god Qua non lo so Proviamo a darci un occhio Tanto per allungare La parte più Del previsto IDS Perfetto Perfetto Caricamento Sì Oh questo non dovrebbe essere Tanto lungo Speriamo che Non ci chieda Nome Numerosi incantesimi No Tua sorella Perché non l'ho prese Aspetta 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 Fatemi concentrare Allora È preferibile Andare qua O di là Ti avverto Non passare di qui Vai via Eh giustamente Mi apre la porta Ti avverto Vai via Entra Intelligenza Oddio No Devo farvi vedere Una cosa Non questa Non questa Aspetta Aspettate Aspettate Sì ho capito Va bene Sei forte Sei ganso Scusate Scusate Lo sapete Lo sapete Lo sapete Tutti Che il manusro Puoi scompire Da degli anni No zitto Un secondo Questo Appena che l'ho visto Prima Mi ricordava Cioè mi ha ricordato Barack Obama Ho detto Segnali 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 Futuristici In questo Joker Signori Spero Che tu Non abbia Tirato Quella Leva Giovanotto No Cosa Te lo fa Pensare Eh Sì Eh Verde Stadi Ah no Ma no Ma sì Ma no Ma dai Ma no Che dai Ma no Che sì Ma no Che no 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 Oh vedremo a che ci servirà più avanti Con quel Quel pilastro Oh il cavaliero scuro Wow Ma tu sei Potter Mi ricordo di te Dall'anno scorso Ovvero Se vuoi arrivare al piano inferiore Passa attraverso di me Potter E lì 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 Scorregge Dugrid Fanno bene alla salute C'è trovato C'è Bellissima questa cosa Dei Mi ricordano Mi ricordano I tur I turbini di spiro Queste cose Sì Assassin's Creed Grand Harry Oh i topi Qua si può notare Che crosta Insieme a un'altra topolina Hanno procreato Ma io mi chiedo Io mi chiedo Perché procreare Ad Hogwarts Perché Non potevate Procreare Nella Tana Almeno lì C'è la campagna Se ne frega No Ad Hogwarts Si vede Si vede il lavoro Astuto Che fa Gaza Bevi pozione Ma non ci serve Questa è una cosa Bellissima signori Guardate qua Finalmente possiamo Toccare qualcosa Di vivo Questa roba Oddio Delle lumache Mi sono confuso Mi sembra Una delle lumache Ok Prendetemi in giro Nei commenti Oh marino Ha detto lumache Oddio Madonna Si vede Quella topa Che ha trovato Cross È davvero Una grande Suka Suka Puntini puntini Non vorrei essere Volgare Ha procreato Mezzo Hogwarts Tutti sti topi E ne vedremo ancora Vedi statevi buoni Aspetta Avevo visto Una porta Per sbaglio Si C'è una porta Apri porta Ma dove ci porterà Ah Che furbizia Furbizia E tanti libri Ci sono cose Più importanti L'amicizia E il coraggio Ah Non lo possiamo fare Ci serve Verdimilius Perché chiamarlo Lumos Perché Anzi Perché non chiamarlo Lumos Visto che l'hanno chiamato Verdimilius Che cazzo c'è Entra Verdimilius Si è usato Nel libro Nel film Lumos Loro Intelligenti Fa Eh ma Già si aspettano Che l'incantesimo Della luce Si chiamerà Lu Verdimilius Lumos Noi che cosa facciamo Gli cambiamo il nome L'avete fatto bene Non è che Me la prendo con voi Eccoci qua Signora Grassa La parola d'ordine Grugno di porco Caput Draconis Mi spiace Ma non è quella La parola d'ordine Oh no Non conosciamo La parola d'ordine Per il ritratto Della signora Grassa Non possiamo entrare Ron Tu aspetta qui E guarda se passa Qualcuno di Grifondoro Io andrò a cercare Ermione Sicuramente Lei conosce La parola d'ordine Mi rincresce vedere Harry che parla normalmente Dal primo capitolo Cioè è una cosa bellissima Harry parla Comunque signori Questa era la parte quinta Di Harry Potter Se vi è piaciuta Io vi invito A mettere mi piace Iscrivervi Io e mio fratello Che è tornato Giusto appunto Per dire ciao Dai saluta Che devo staccare Ciao Ci vediamo Domani Alle 4 Alle 5 All my No Anzi Vi 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 Vi